Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo con un mazzo di Yugi, low budget, quanto capito? Sì, sempre a costo basso, che non ha un grosso extra deck, ma usa dei rituali. Chi ci segue su Instagram l'ha visto in questi giorni, ha avuto già anche un discreto successo, perché c'è chi lo gioca e spero comunque vi piaccia. Vi preannunciamo che ci mancherà una carta in 3x, che effettivamente non abbiamo ancora trovato nei nostri scatoloni. Ma che troveremo sicuramente, e quindi per ora vi lasciamo alla lista di questo mazzo, che Massi ci presenterà. Quindi via i trailer e via con la Dierk. Eccoci qua ragazzi, oggi vi presentiamo un mazzo, come abbiamo detto, a basso costo. Un mazzo che si può considerare anti-meta, perché effettivamente gioca un pochino di Spiriti, e questa è la sua base, gioca all'interno, quindi è per questo che abbiamo un extra deck molto limitato, delle carte rituali, che è un po' che non si vedevano. Quindi avete capito, chi ci segue abbiamo montato il mazzo Shinoboard. Il mazzo Shinoboard, che quando è uscito è stato messo un pochino in disparte, perché mi mancavano alcune carte, poi piano piano giocando tutti abbiamo trovato una carta che è diventata fondamentale, una carta che è anti-entrap, che si chiama Maneuato, a mano per i giocatori, e che vedete comunque in questo mazzo ha un peso ancora più importante rispetto ad altri mazzi. Quindi iniziamo ora anche con le ultime uscite, a farvi vedere un pochino di carte che possono permetterci di montare questo mazzo competitivo anche in uno store. Infatti noi questa settimana faremo la nostra richiesta, e un mazzo del genere si può tranquillamente costruire con un basso budget, ottenere anche dei buoni risultati. Quindi iniziamo la nostra decklist e vi facciamo vedere cosa abbiamo creato per voi. Allora iniziamo. Perdonate ovviamente la pronuncia, perché come sapete le carte di Yu-Gyu, alcune sono un pochino difficili. Un po' complicate. Io avrei difficoltà soltanto a leggere la prima. Allora, giochiamo il 2x di Incantesimo Candelabambola, scusate. Ve lo facciamo vedere così ci togliamo il problema. Questo è un motore di ricerca, è un motore di ricerca per un'altra carta Incantesimo che vedrete più avanti. Poi come altra carta, sempre da ricerca, giochiamo Aratama. Anche Aratama ovviamente la conoscete, vedete sono tutte carte rare di non altissimo prezzo, che ci permette anche lei di sfoltire, di ricercare magia all'interno del nostro mazzo. L'altra carta che va in combinazione con Aratama è Nikitama. Anche questa è una carta rara, sempre a basso costo, che potete trovare tranquillamente. E quindi la seconda, Incantesimo, che mettiamo, che è l'Incantesimo Talismandra. Questa ovviamente è una carta che è uscita da poco e riusciamo anche questa a metterla nel mazzo in modo da avere le varie carte per fare rituali Shinobird. Quindi la prima Shinobird che giochiamo anche in 1x è la Gru. La Gru ovviamente la giochiamo, lo sapete, perché ci permette di pescare tantissimo. Quindi in 1x, tanto ce l'andiamo a prendere, la mettiamo sempre. La carta principe del mazzo che giochiamo con Muno, ovviamente in 3x, Amaniwato. Amaniwato lo sapete, quando è in gioco non ci permette di usare carte anche dalla mano. Quindi se è la prima cosa che mettiamo, l'avete conosciuta anche con il vecchio mazzo Masterpiece, non fa usare Entrap, quindi ci difende e possiamo fare tutta la nostra combo. Chi è appassionato del Blue Ice ovviamente riconoscerà i Manju dalle 10.000 mani, anche questo è fondamentale per fare la nostra ricerca in base Shinobird. Anche questa giochiamo in 3x. Forse, come vedete, questa adesso è la carta un pochino più costosa, non ha un prezzo comunque eccessivo. E poi andiamo con le nostre rituali. Ovviamente la carta principe è lo Shinobird Pavone, che giochiamo in 3x. E in 2x mettiamo la Shinobirdessa Pavone. Ok. Ora passiamo qualche magia prima di entrare in un supporto che abbiamo messo all'interno, che vedremo più avanti. Per andare avanti le pescate non possiamo non giocare il 2x di Baratto. Poi non possiamo non mettere in 2x la pre-preparazione dei Riti. Ovviamente in 3x il richiamo dello Shinobird. In 1x giochiamo punto di potere Shinobird. E poi iniziamo con i nostri support. I support ovviamente si dividono, come potete ben capire, in due tipi. Uno fatto per aumentare le normal e uno fatto anche per pescare o pararci se non siamo partiti. Giochiamo l'1x di Cavaliere Gemma Lapislazzuli e potete immaginare quindi che giochiamo anche il 3x della fusione brillante. Andiamo a dare un occhio all'extra deck e immaginate che giochiamo queste 4 carte per avere il Cavaliere Gemma Serafinite, che ci permette, come sapete, di fare una normal aggiuntiva. Altro support fondamentale di questo maccio sono carte che ci piacciono, ne stavamo parlando anche prima con Gianmarco, perché ci riportano un film che sicuramente andremo a vedere e vi consigliamo, che è ovviamente il nuovo Godzilla. Quindi andiamo con i Keiju, giochiamo quello di fuoco, giochiamo, ci dora, no scherzo, l'altro Keiju che è quello vento, però li riconoscete, dai dite che è vero. Ovviamente una carta costosa la dovevamo mettere Gamma Cell, quello d'acqua, e per giocarli non potevamo non mettere l'1x di Sono Keiju interrotto. Questa ovviamente è una carta che lo sapete, se abbiamo briccato ci serve per fare i regecchi, la usiamo, con il baratto possiamo scartare anche i Keiju, quindi abbiamo scelto loro come supporto. Per pescare l'1x, perché sapete che è limitata di Ricastro Goblin, tanto siamo OTK, quindi possiamo regalare tranquillamente mille punti al nostro avversario, e l'unica carta che ci manca che sono i pre-riti istantanei, che sapete ci fanno comunque anche queste andare a prendere la carta rituale. Questa è la nostra proposta low budget di un mazzo Shinobard, per l'extra deck senza tirarla per le lunghe, avete visto tanti mostri di livello 4, quindi un tapirone, un babusca ci può stare se per caso il mazzo non ci ha girato, ci piace come sempre Utopia, non è che non giochiamo extra deck, se vogliamo possiamo mettere le cherry, e riempire anche il nostro mazzo di carte dell'avversario per andargliele a togliere. Questa è la nostra proposta, veramente veramente competitiva per un basso costo, ricordatevi su tutti Amaniwato ragazzi, che bloccherà un sacco di mazzi, grazie, se studiate un pochino il mazzo, vedete che lo potete anche lasciare in gioco, e questo lo rende ancora più forte. Ci ha aiutato Luca, il vincitore dello scorso store, a costruirlo, quindi è anche divertente come mazzo, ringraziamo ovviamente anche Luca. Come sempre, se avete bisogno di qualcosa, la Ultimate Guardian ci accompagna in tutti i nostri video, e come potete sempre vedere il nostro feed o deck box è sempre qui con noi, quindi non l'abbiamo ancora distrutto dopo anni e anni, e poi, come vi ricordiamo, abbiamo queste nel nuovo store. Quindi la prossima settimana sentirete solo Gianmarco, e soprattutto è grandissima, quindi vale la pena solamente andarla a vedere. Quindi vi mandiamo la prossima settimana con un nuovo video dedicato alle carte Pokémon. Certo, e ora invece l'ultima domanda che ti voglio fare Massimo, è se qualcuno dovreste iniziare a giocare a Yu-Gi-Oh! A parte che noi giochiamo a Yu-Gi-Oh! qua in negozio, ma potrebbe cominciare da questo mazzo, o è un mazzo abbastanza complicato? No, assolutamente, può giocare tranquillamente con questo mazzo, anzi, è un mazzo abbastanza semplice, perché tutte le carte si chiamano tra di loro, non sono così complicate come sembra da trovarle, perché avete visto, la rarità è bassa, chi gioca a Yu-Gi lo sa, non ci sono secret, non ci sono super, alla fine è veramente un mazzo questo, che si costruisce, diciamo, anche con una cifra sui 30-35€ al massimo, e ci permette, non ovviamente in tornei tipo il nazionale, o comunque un LLDS, di giocarci il nostro Store Championship, quindi il nostro campionato cittadino, e ottenere anche qualche buon piazzamento, in modo da acquistare con i premi nuove buste, nuove carte, fare un po' di scambi, e magari giocarci la finale con un nuovo mazzo, un po' più competitivo. Quindi quello che ho chiesto a Massi, l'ho fatto proprio per farvi capire, che Yu-Gi è bene o male la portata di tutti, ma come bene tutte le carte che portiamo all'interno del canale, sono alla portata delle tasche di tutti, quindi non avete paura di iniziare magari una nuova avventura, perché avete paura di non riuscire a permetterla, anche voi, magari ragazzi più piccoli che ci seguono, possono tranquillamente avvalersi del nostro Store, oppure anche qui in negozio di carte, che possono trovare a pochi euro, per iniziare proprio questi nuovi mazzi, nuovi deck, magari anche in un gioco che non hanno ancora affrontato. Quindi se siete della zona, se siete in provincia, noi vi aspettiamo, anche per avere nuove idee, costruire nuovi mazzi, se invece vi è piaciuto l'idea, ovviamente lasciateci un bel like, e soprattutto tutti i link li trovate in descrizione, seguiteci, accendete la campanellina, così vi arriva la notifica dei nostri nuovi video, e vi salutiamo. Quindi trailer di coda, alla prossima ragazzi, con le Pokémon. Ciao!